Una sfida tutta da gustare, quella che si gioca a Castelnuovo al Vomano tra la Torrese e il Pen. Gli ospiti di Pavone hanno nel biglietto da visita un rullino impressionante di risultati utili consecutivi. È la miglior difesa del campionato. La Torrese al debutto con Mr. Cristofari dopo le dimissioni in settimana di Narcisi. Inizia benissimo la squadra giallorossa di casa che sblocca la gara al quinto con una perla di Maurizio. Chiacchiarelli, pallonetto dolcissimo che beffa D'Amico. Rivediamo la perla dell'ex Nereto e San Nicolò. Ancora Torrese sulle ali dell'entusiasmo, gioca un gran bel calcio e c'è il raddoppio in fotocopia al minuto 18. Sembra uno schema, quello che in realtà è un gol difficilissimo questa volta. Ettini, il numero 11, a beffare D'Amico per la meritatissima rete del 2-0. L'unico sussulto degli ospiti è una punizione alta di Cacciatore. La Torrese continua a giocare calcio spumeggiante come questa azione che porta al tiro Chiacchiarelli. Palla che sfiora il palo. Ancora recupera una gran palla. Tini, il migliore dei suoi. Gran bolide, traversa che salva il penne dal tracollo. Già nel primo tempo. Il 3-0 però arriva al trentottesimo. Rinancio di Bruno, spizzata di Torbidone per Chiacchiarelli. Gran gioco di gambe per il numero 10. E sinistro che non lascia scampo a D'Amico. 3-0 Torrese. Gran primo tempo per la squadra di Cristofali. Il tempo si chiude con un squillo di Cacciatore. Bruno dice no e con un colpo di testa di Chiacchiarelli. Vicino alla tripletta personale. Doppio cambio per il penne fuori. Gli annascoli e rossi dentro Pagano e Savini. Al tredicesimo rimane in inferiorità numerica la Torrese. Per questo intervento scomposto di Nardone su D'Amico. D'Angillo lo espelle. Doppia munizione. Penne che reagisce subito. Grazie alla superiorità numerica. Profitta con la rete di Di Ruocco. Prova a rinvenire in partita. Ma ci pensa il solito Chiacchiarelli che approfitta di uno spunto. Il solito spunto di Tini per firmare la rete del 4-1. Nel finale il penne potrebbe accorciare le distanze. In più di una occasione. Ma il punteggio rimane fermo sul 4-1 fino al triplice fischio dell'arbitro. La Torrese comincia l'era Cristofali con una bella vittoria. Allora io innanzitutto volevo dedicare questa vittoria a chi in settimana ha deciso di rassegnare le dimissioni. Mister Narcisi ha fatto un lavoro duro in questi sei mesi insieme a noi. Io lo ringrazio. E quindi questo ci premevo a dirlo perché lui ha fatto una scelta coraggiosa. Ha deciso di farsi da parte per cercare di dare una scossa alla squadra. Quindi per me questa è la prima cosa perché ci lega un'amicizia. Un rapporto di stima che va al di là di ogni cosa. Detto questo sì, la partita di oggi, devo dire la verità, ieri sera sono andato a dormire veramente senza problemi. Nel senso che ho visto una squadra in settimana veramente in salute. Una squadra che voleva assolutamente dimostrare che non erano quelli di domenica. Quindi oggi al di là del fatto che ho debuttato io, chiunque sarebbe andato a sedere in panchina, questa squadra sicuramente avrebbe risposto come ha risposto. Perché ha dei valori, oltre che tecnici e tattici, ha dei valori umani importanti. E quindi questa è la base, la fame, la cattiveria e la voglia da cui ripartire. No, va bene, loro hanno fatto una grossa prestazione, hanno impattato la partita in modo eccellente. Noi siamo mancati, soprattutto in quei primi 20 minuti in cui siamo andati in palla. Il campo siamo scivolati 40 volte, non siamo riusciti, veramente abbiamo preso tutto male a partita al campo. Non è una scusante, però veniamo da tanti risultati consecutivi, dobbiamo ripartire dall'anno.